Tre maxi discariche tra San Cataldo e il Caltanissetta nelle zone di periferia da 100, 300 e 500 metri quadri. Quello che hanno trovato è sequestrato gli uomini della Guardia di Finanza del Comando Provinciale Nisseno guidati dal colonnello Stefano Gesuelli per un totale di 100 tonnellate di materiale. Eternit, materiale discarto, materiale edile, il contenuto delle discariche che erano già state costituite da tempo. Un'operazione svolta durante i primi giorni di febbraio anche con l'ausilio degli elicotteri per il pattugliamento euro e il controllo da terra delle pattuglie.